Oggi è un grande giorno, il primo giorno di riprese, di due, si spera, due giorni di riprese, il secondo non si sa quando è e ora siamo in perfetto ritardo, dovevamo già stare là un quarto d'ora fa. Ma gli artisti si fanno aspettare? Sì, anche quelli che devono pagare si fanno aspettando. Stiamo arrivando, ciata! Vabbè ragazzi, come ho detto, mi hanno portato. Ma quando è sexy, Tony? Donchile, che pazzo! Oddio! Olè! Backstage! Sì, guardate quanta bella gente che abbiamo chiamato per fare questo cazzo di video. Mamma mia! Tutti attori professionisti che vengono dal Belgio, dall'Olanda. Come è andata la tournée in Australia? Tutta posta? Ancora fuso orario! Mannaggia a quei cangurotti! Facciamoci un giro! Ma anche io, è bello eh! Sì, sono anche i fiori finti! E le cose! Cosa ne pensa di questo posto? Fantastico! È fantastico! Il videoclip sarà ancora più fantastico! Quello è sicuro, proprio al 100%, garantito! Cosa pensi di questa esperienza? La facciuta! Mi sono bisogno anche il barico! Questo è il caffè di scena! Cioè, la chiave nella scena esce! L'altra volta hai messo l'acqua, adesso fai il caffè! Tu hai scoperto! Oh! I regissi, i produttori, i coproduttori, e voi che siete i nomads, siete le teste dietro a questa cosa! Allora, fa caldo, siamo suddati, e fa caldo! Però, cioè, però l'amore di Nico Albano, diciamo, vi ha scaldato il cuore? Sì, assolutamente sì! Assolutamente sì! Ma il direttore della foto che ha fatto la pensa di questo video? Sui Norman Winch, non lo seguì! Sì, assolutamente sì!